cosa facciamo i loro due ragazzi sta uscendo, sta uscendo, va vai vai, stava tu stai vieni, vieni vieni, vieni, vieni vai, un altro tu stai, tu, stai ma guardate qua c'è stai lì allora tu, quasi stai vai tu stai, tu stai tu stai tu stai tu stai tu stai ho chiamato 713 grazie